In un mondo di cattivi Fan fatal E un nuovo pollo toscano nel panino ciabatta Ecco il primo cortometraggio mai girato di Wemms Scritto in italiano Sono certo che a Don Carlo non dispiace più E sottotitolato da voi Esatto, da voi Mi dica, dov'è il gioiello? Nelle prossime settimane posteremo delle scene del film sulle pagine Wemms Di Facebook e Twitter per lasciarvi la possibilità di creare delle didascalie Le migliori didascalie diventeranno i sottotitoli del film Quindi prova il pollo toscano nella ciabatta di Wemms Aguzza la mente E sii pronto a dire tuoi? Sì, lo scrittore sono io Ma in realtà quello che voglio fare E il regista La stella della Toscana Aprile 2014